In passato erano stati anche amici, ma qualcosa ha fatto degenerare uno screzio in un fatto di sangue, anche se resta ancora tutto da chiarire il motivo per il quale lo scorso sabato pomeriggio un trentenne bengalese ha colpito con una lama un connazionale tagliandogli un orecchio. Adesso comunque l'aggressore è stato rintracciato dalla polizia municipale di Arezzo e per lui è scattata la denuncia. L'episodio è accaduto in via Vezzosi nel quartiere di Saione. L'aggressore ha infatti colto alle spalle la vittima colpendolo con un coltello e causandogli alcune ferite superficiali vicine a collo e spalle e staccandogli un pezzo di orecchio. A seguito dell'accaduto sono intervenute sul posto forze dell'ordine e la vittima è stata a soccorsa. Adesso l'aggressore è stato individuato dagli agenti della polizia municipale anche grazie alle testimonianze raccolte in zona oltre che alla descrizione fornita dal ferito che ha avuto una prognosi di 12 giorni. Resta invece tutto da chiarire il movente dell'accaduto. Nessuno dei due infatti ha voluto svelare il perché della cesalite finita nel sangue sulla quale la municipale sta continuando ad indagare.